Erano dei perfetti estranei finché un giorno Voi cinque siete fratelli Ora A me costarà solo altri quindici anni d'analisi, tanto me li paga lei, no? Per l'eredità milionaria di un padre sconosciuto Dove andate? In America! Eh, papà? Non lo prendete? Avranno tutto il tempo di conoscersi, fino in fondo Out, for, lung E che vuol dire? For vuol dire quattro, one, two, three, four Vuol dire che riaprei quattro Ciao ragazzi Ragazzi? Che ho preso quel frugge? Antonio, non fai niente! Sì! Ragazzi Ma che cazzo parli col commissario Rex? Mi piacciono le emozioni forti Ma come papà? Ma va chi? Il nostro Ragazzi Questa è la terra degli indiai Navacos De come ti tex Weedner Buono! Ma che ti sei fumato? Il calumet della pace! Hi guys Ciao ragazzi E' una fissazione Ma non siamo gay Guardi che fa il cena maschio Questa è la boutique del pistone A gennaio Ci sono gente Di un mare ducato, guarda Perché non ce lo so Regalatevi un viaggio Quanto a Cavani Ma che cavani? C'è il casco? Che è venuto da motociviletta? Con tutta la famiglia No! Sì! 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 Non ti sento Parla più forte Stai parlando con me? Io fratelli come voi Non ne voglio Mamma mia Non mi mancano Ho conosciuto un uomo Mi permette di darti due consigli Così da sorella a sorella Allora il primo Non arrivare mai puntuale ad un appuntamento Il secondo Dagliela Mai Stati Uniti Un film di Carlo Vanzina Hi guys Ancora Ma che è sta bar dracu Dal 3 gennaio al cinema